I rosso-blus segnano il primo gol della giornata con Viola, è il terzo minuto e per i padroni di casa diventa tutto facile. Raddoppia Iachini con questa punizione dopo altri sette minuti. Prima Bivi sbaglia il gol, poi viene atterrato. È rigore con Martina che intuisce e Bivi che replica. 17 minuti di preoccupazione per il Genoa, poi Briaschi fa 3 a 1. I calabresi non sono d'accordo. Fiorini è entrato a sostituire Briaschi, vuole la gloria ma viene atterrato così. Antonelli è il novantesimo, mette tutti d'accordo con questa pennellata a memoria di chi troppo in fretta si è liberato del giocatore.